Salvini è un leghista di oltra destra ed è un leghista di sinistra? No, io sono un leghista di destra e di sinistra, sono leghista post ideologico come sono sempre stati i leghisti e i leghisti non sono mai stati di destra e di sinistra, post edizione del 96 la Lega non sta né a destra né a sinistra ma sta sopra, sta sopra significa che stava al nord e stava a vigilare affinché al nord si potessero verificare una serie di condizioni che non sempre si sono verificate io sono pronto a fare accordi con chiunque se mi da la libertà, se il PD Lombardo cambiasse idea e avesse voglia di ragionare con noi sul referendum per l'autonomia del 22 ottobre io credo che si debba necessariamente dialogare anche col PD e quindi trovo assolutamente sbagliato inserirsi in un angolo ben preciso come quello della destra populista europea che non ci appartiene.